Avete un cuore rap e frequentate una scuola media o superiore in Piemonte? Partecipate al nuovo concorso, bandito dal Consiglio regionale con gli stati generali dello sport e del benessere e la consulta giovani. Dovete comporre una canzone, inedita per testo e musica, e riprodurla in un video della durata massima di due minuti. Partita del cuore, solidarietà, donare, ricerca, sport, salute, stili di vita e benessere, le parole chiave da utilizzare nel testo. I migliori studenti si esibiranno durante la partita del cuore il prossimo 30 maggio allo Juventus Stadium.